Eccomi bimbi per il secondo esercizio musicale insieme. Siete pronti? Io e Winnie siamo sempre carichi di energia per giocare con voi. Questo esercizio si chiama appunto l'energia dei colori ed è contenuto in questo libro che ho scritto apposta per i bimbi, la musica a colori. Sentite un po' bene cosa abbiamo da raccontarvi, ma soprattutto ho una domanda per voi. Voi sapete quante sono le note? Tre, cinque, Winnie che ne dici? Sei, allora andiamo a dirle insieme a contarle così vediamo subito. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Sette bimbi! Sette note! Ma sapete anche cosa abbiamo scoperto io e Winnie? Che a queste sette note possiamo abbinare sette colori. Siete pronti a scoprirli con me? Intanto vi faccio ascoltare le note e vi chiedo di pensare al colore che vi dirò. D'accordo? Potete fare come Winnie, vi sedete, vi rilassate, potete anche chiudere gli occhi e semplicemente ascoltare e visualizzare il colore. Allora, questo è un Do e quando sento il Do posso immaginare, vedere, pensare il colore rosso. Questo è il Re e posso immaginare l'arancione. Questo è il Mi che mi fa pensare al giallo del sole, il giallo caldo come il sole. Questo è il Fa che mi fa pensare al verde. A me piace tanto il verde smeraldo. E a voi, bimbi? Poi abbiamo il Sol. Il Sol mi fa pensare all'azzurro, all'azzurro intenso del cielo d'estate. E subito dopo c'è il La che diventa blu scuro come la notte. E poi abbiamo il Si che mi fa vedere il viola intenso dei fiorellini. È tutto chiaro? Do rosso, Re arancio, Mi giallo, Fa verde, Sol azzurro, La blu, Si viola. Perfetto, bimbi! L'esercizio non è però finito. Io e Winnie vogliamo spiegarvi ancora una cosa. Adesso lo imbraccio in modo da farvi vedere bene che cosa succede. Io e Winnie abbiamo scoperto che ad ogni colore e ad ogni nota possiamo abbinare una parte del corpo. Siete pronti a scoprire quali sono? Molto bene. Allora, Do abbiamo detto rosso. E cosa abbiniamo? I nostri piedini. Re abbiamo detto arancio e abbiniamo i nostri fianchi. Mi abbiamo detto giallo e abbiniamo l'ombelico, quel bottoncino che abbiamo nella pancia. Fa abbiniamo il verde e il cuore. Sol abbiniamo l'azzurro e la gola. La abbiniamo il blu e la fronte. Si abbiniamo il viola e la testa. Avete compreso tutti? Sono sicura di sì. Allora Winnie, grazie per il tuo prezioso aiuto. Puoi tornare al tuo posto. Potete fare l'esercizio da seduti o ancora meglio da in piedi ma soprattutto lo potete fare con mamma e papà. Così giocate insieme. Siete pronti? Adesso seguite attentamente cosa vi chiedo di fare con questa filastrocca. Se il rosso vuoi pensare, i tuoi piedi devi toccare. Con l'arancio sali su, sui tuoi fianchi e non di più. Poi col giallo puoi trovare l'energia per danzare. Or sul cuore la tua mano trova il verde piano piano. Con l'azzurro sulla gola la tua voce vola, vola. Sulla fronte vedi il blu. Che segreti hai lassù? Con le mani sulla testa senti quanta gioia resta. Con il viola stai pensando. Ad occhi chiusi e dondolando. Ora indietro puoi tornare e la tua fronte accarezzare. Sulla gola piano piano puoi posare la tua mano. Poi sul petto sei tornato. il tuo cuore pulsa innamorato. Sulla pancia trovi il centro. L'equilibrio è lì dentro. Poi su fianchi le tue mani. Piano piano allontani. Verso terra sei tornato. Ad occhi aperti e rilassato. Vi è piaciuta la mia energia dei colori? A me piace tanto. Potete farlo tutte le volte che avete voglia di rilassarvi e di ritrovare un pochino di energia. Grazie bimbi per aver giocato con me e Winnie. Abbiamo voglia di preparare tante cose carine musicali per voi. E quindi al prossimo video. Vi abbraccio tutti. Grande 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 grande. A presto!